Chi si aspettava una Fiorentina remissiva, una Fiorentina senza forza propulsiva in attacco per le assenze di Rossi e di Gomez, ha dovuto ricredersi nella partita di quest'oggi contro il Toro. Più che la presenza di Ilcic al centro dell'attacco sono state la vivacità di Quadrado, la tecnica di Fernandez, l'universalità di un giocatore come Borca Valero a fare la differenza in attacco. Nel corso del primo tempo la Fiorentina tira 6-7 volte verso la porta del Toro, Toro che risponde nell'unica maniera che gli è consentita, con le puntate di Cerci, e Cerci che tiene vivo il Torino in assenza di Immobile e di Elcaduri, davanti il Torino effettivamente ha davvero molto poco. Poi nel secondo tempo la partita cambia, la Fiorentina continua a tenere il possesso del pallone, ma il Toro trova i suoi contropiedi soprattutto appoggiandosi ad Armian sulla destra e allora Torino ha anche le sue opportunità con Barretto, con Cerci stesso, per portare a casa un successo che poi alla fine non arriva. Il pareggio poteva essere il risultato più probabile in partenza, il pareggio 0-0 è quello che le due squadre totalizzano. Per la Fiorentina significa rimanere al quarto posto della classifica, per il Toro arrivare a quota 26, 26 punti che non sono male.